Giornata finale di bilanci del G7 in Puglia. Per il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni bilancio soddisfacente, pace e importanza del ruolo italiano tra le priorità. Entra nel vivo la seconda parte della campagna elettorale per il ballottaggio alle comunali a Bari. Leccese festeggia l'elezione di De Caro e incontra i cittadini. Romito riparte dai quartieri. Nonno vigile cercasi. Affoggia un gazebo informativo per promuovere tra i cittadini il progetto dei nonni vigili del comune del capoluogo da uno. Tg interregionale di Antenna Sud ben ritrovati. L'avete sentito nei titoli. Noi il G7 è il grande protagonista di questi giorni qui in Puglia. Ha una giornata intensa ed è anche tempo di bilanci con la Premier Giorgia Meloni che ringrazia la Puglia e cita il Borgo Globale. Conferenza stampa finale a Borgo e Gnazia che mette diversi punti al centro tra questi la conferenza svizzera sulla pace in Ucraina. Poi la stessa Meloni aggiunge diversi Premier torneranno presto in vacanza. Da queste parti tutti i dettagli nel servizio di Antonio Bucci. Da oggi in poi intanto questa vocazione viene rafforzata dalla consapevolezza che i leader mondiali hanno del posto nel quale si sono trovati. E davvero io devo fare i complimenti a tutti i pugliesi. Lei chiedeva se siano stati all'altezza del compito, credo che siano stati molto oltre l'altezza del compito e credo anche, guardi mi consenta, che questa fosse la risposta migliore che si poteva dare ai soliti pregiudizi che abbiamo letto da alcune parti della stampa internazionale anche su questo territorio. E' il Borgo Globale l'effetto Puglia del G7 di Savelletri? Giorgia Meloni lo racconta così archiviando il vertice dei grandi a staffetta con la conferenza di pace della Svizzera e le prime riunioni sulla Commissione Europea che verrà. Tiene la bara dritta. Ci mette dentro il cessato del fuoco in Medio Oriente il prestito da 50 miliardi di dollari per l'Ucraina, la lotta al traffico di esseri umani, la citazione di Falcone e Borsellino a spiegare l'approccio, il piano Mattei e la prima visita di un pontefice. Elenca per nome i leader del summit da ringraziare, non senza replicare a muso duro al presidente francese Macron sull'assenza dell'aborto nel documento finale e non senza stilettati alla CNN e ai pregiudizi della vigilia. Non un fatto di big del mondo a bocca aperta, panzerotti e artigiani, ma identità e vocazione, racconta lei, pur incassando qualche valumore per il numero di domande accolte a margine del suo discorso. A fine giornata l'agenda c'è, la Puglia pure. Credo che la forza di questa regione, dell'Italia nel suo complesso, ma particolarmente della Puglia sia nella sua capacità, nel suo legame con le sue radici, con le sue tradizioni. Qualcuno può essere arrivato con un'idea, sono certa che tutti sono andati via con un'altra idea. E penso che diversi dei leader che sono venuti qui a trovarci torneranno presto a fare le loro vacanze da queste parti. Diverse però sono state anche le manifestazioni anti G7, in particolare a Fasano. Un corteo ha chiamato a raccolta 500 persone. Fabrizio Caganiello. Lotta alle guerre, lotta ai cambiamenti climatici, sono alcuni dei temi che hanno animato l'ultimo corteo contro il G7 che si è snodato per le vie di Fasano. Circa 600 le persone che hanno preso parte all'iniziativa. Giunte da ogni parte d'Italia, in tanti sono arrivati anche dall'estero. Noi abbiamo puntato sul fatto delle famiglie, delle persone che non devono più avere paura. Hanno diffuso paura a piene mani. Questo è il loro obiettivo. Più paura c'è, meno partecipazione. Ma questa volta è stata sconfitta. Da dove venite? Da Taranto. I motivi di questa protesta? Siamo contro un vertice dei padroni del mondo che sta prendendo decisioni e stiamo avanzando a marce forzate verso la guerra. Da dove viene lei? Ginosa a Taranto. Come mai qui? Perché non mi piace quello che sta succedendo, quindi dobbiamo cercare di risolvere, di fare qualcosa perché non possiamo stare fermi per questa situazione che sta succedendo. Da dove viene? Da Palermo. Da Palermo. Sì, sono qui perché innanzitutto sono contro questi G7 che sono all'insegna della guerra e delle spese militari e quindi di portarci tutti noi lavoratori, lavoratrici, verso una guerra mondiale. Come mai qui? E' chiaramente perché il G7 ha deciso sulla guerra alimentandola con 50 miliardi e chiaramente perché questi governi sono in crisi anche nello stesso paese e pretendono di decidere le soldi del mondo. E' stato comunque un G7 che ha messo la Puglia alla prova, una prova sicuramente superata, tanti leader mondiali protagonisti, su tutti Joe Biden, il ritratto a cura di Michele Iurlar. Prima ancora che la conferenza finale della Premier Meloni è stata la partenza di Biden la notte prima a chiudere idealmente il G7. A bordo del suo Air Force One il presidente statunitense ha lasciato una Puglia uguale e pure diversa rispetto a come l'aveva trovata quando al suo arrivo, solo due giorni prima, ci si interrogava sulle capacità del territorio nell'accogliere i grandi della terra. E poi Zeleschi, Papa Francesco, le delegazioni a passeggio per Trulli, uvivi e ceramiche nel mezzo quella cena da favola al Castello Svevo con il capo di Stato, Sergio Mattarella, padrone di casa in una brindisi, mai così bella, non cambierà davvero nulla con quel documento programmatico che parla di pace ma che non cita l'aborto, che promette battaglie sui diritti dimenticandone altri. E allora quel che resta sono le foto e i sorrisi, le immagini storiche di una Puglia che ha superato la prova che si aspetta ora una sorta di ricompensa in termini di immagini e turismo. E chissà che gli algoritmi dell'intelligenza artificiale per una volta non si dimostrino più affascinanti che tremendi che ci aiutino a non archiviare questo G7 come una inutile passarella ma come un'occasione finalmente sfruttata per il mondo, per la Puglia. Anche noi abbiamo fatto la nostra parte. E questa è la bella riflessione a cura del nostro collega G7 che però ha visto anche lo scalo aeroportuale di Grottaglie come protagonista perché da qui sono transitati tutti i principali leader mondiali. Valentina Fanigliu. Sono ripartiti tutti. L'aereo del Canada è stato l'ultimo nella tarda mattinata di sabato 15 giugno a lasciare l'aeroporto civile Marcello Orlotta di Grottaglie. Prima di lui Giappone e Germania, mentre il giorno precedente era stata la volta del decollo dell'aereo del presidente Zelensky, poi quello francese e del Regno Unito. I leader mondiali del G7, tranne il presidente americano Joe Biden, hanno dunque scelto lo scalo grottagliese non aperto ai voli civili passeggeri, ma con una pista di atterraggio tra le più grandi in Europa. Una macchina organizzativa straordinaria ha trasformato un aeroporto solitario e defilato in un quartier generale di massima sicurezza, offrendo al tempo stesso alla comunità grottagliese istantanee e suggestive. Cortei di delegazioni transitare sul manto stradale rimesso a nuovo. First Ladies è il marito di Ursula von der Leyen e le delegazioni a passeggio nel quartiere delle ceramiche. E aerei grandi, immensi, di stato, alzarsi nei cieli talvolta turchese, altre buio con le sole e stelle a illuminarlo e altre ancora arancione come il tramonto. Se è vero come è vero che cale il sipario sul G7 in Puglia, regione che ha mostrato ai grandi della terra le proprie tradizioni, cultura, storia, la sua gente. Il sipario sull'arlotta domani si rialzerà nuovamente, con una comunità che ha superato a pieni voti una prova straordinaria nel suo genere. Buona è la prima, seppur non si tratta dei primi voli nella storia dello scalo ionico. E allora, buona anche questa. Ma in tutto questo i cittadini pugliesi cosa hanno capito realmente del G7? Ilaria Del Vino è andato in giro per cercare di capirlo. Più che i fari del mondo, ci sono gli occhi dei cittadini sul G7 a Brindisi, tra curiosità e disinteresse, speranza e sfiducia alle opinioni di chi le decisioni della politica nazionale e internazionale le subisce. Qual è l'obiettivo di questo summit internazionale? Senta, sinceramente sono solo, sempre e solo chiacchiere. Sai che cosa serve questo summit dei governatori del mondo? Lo scopo? Lo scopo? Non lo so, forse per questa guerra. A me è piaciuto molto il fatto che sia venuto anche il Papa, che io sono una persona che stimo molto e cerca lui di fare tanto per raddrizzare un po' di questi problemi che abbiamo. Io ormai la politica non la vado più perché sono sempre e solo chiacchiere, ma i fatti non ce ne sono, andiamo di male in peggio e quindi non ho da dire proprio niente di questo G7, hanno solo dato fastidio. E sa qual è lo scopo di questo vertice? Non so, è lo scopo di mettersi d'accordo tutti quanti per la pace. Per capire che cosa faranno in tutto il mondo? Non lo so proprio, sento ma è lui che ha fatto. Io come sono ucraina, potete immaginare che stato di aspettativa siamo noi. Aspettiamo che l'Europa non cambia idea di essere libera e democratica, altrimenti il mondo sarà finito. Attendiamo, vediamo un po'. Apriamo adesso la pagina dedicata alle elezioni politiche. Si comincia da Lecce, centrodestra, centrosinistra, un'anatra al vetriolo. Le riflessioni di Maria Teresa Carrozzo. Sette giorni separano i cittadini di Lecce dal balottaggio elettorale, un momento cruciale che determinerà il futuro della città. I candidati sindaco si preparano per l'ultima fase della campagna elettorale, cercando di motivare le loro squadre e di riportare i delusi alle urne. Tuttavia il clima politico resta acceso e le tensioni continuano a crescere. I rappresentanti dei partiti e dei movimenti si scontrano sui social, accusandosi reciprocamente di comportamenti scorretti durante la fase di voto. Ci sono denunce di verbali riscritti, schede accartocciate e annullate ingiustamente, ma al momento non sono state presentate denunce formali. Anche i tre candidati sindaco le scintille volano. Nelle scorse ore, Poli e Salvemini sono tornati a confrontarsi utilizzando l'arma dell'anatra zoppa, un termine che indica la possibilità che nessuna delle due coalizioni raggiunga il 50% dei voti validi ai sindaci, dando così un premio di maggioranza al vincitore del balottaggio. Poli, candidato di centrodestra, sostiene che la sua coalizione sia già in vantaggio e punti a vincere anche al secondo turno. Salvemini, invece, replica che l'idea di un eventuale annatra zoppa è solo un tentativo di ingannare i cittadini e che il vincitore del balottaggio otterrà comunque il premio di maggioranza. La situazione si fa sempre più tesa e la posta in gioco diventa sempre più alta. I leccesi dovranno prendere una decisione fondamentale per il futuro della loro città nella prossima settimana. Interessante sarà vedere come si svilupperà il balottaggio e quale coalizione riuscirà a conquistare il premio di maggioranza e a governare la città con una solida maggioranza di consiglieri. Tempo agli elezioni comunali, naturalmente anche a Bari, nel centro-sinistra. Da un lato la festa per l'elezione ad Eurodeputato di De Caro, dall'altro la necessità di riconfermarsi per Vito Leccese. Ieri la passeggiata a Torre Quetta. Noi continuiamo la nostra campagna elettorale in attesa del secondo turno del ballottaggio, il 23 e il 24 giugno. E lo facciamo ritornando per strada, strada per strada, piazza per piazza, fabbrica per fabbrica. Da un lato la festa per l'elezione ad Euro parlamentare, dall'altro la necessità di proseguire la campagna elettorale in vista del decisivo ballottaggio. A Bari, a Torre Quetta, Antonio De Caro e Vito Leccese con questi propositi danno appuntamento ai cittadini. Lo stesso Leccese, inoltre, ritorna sul post social con tanto di botta e risposta con il candidato del centro-destra, Romito. È giusto una battuta perché ho visto che i toni si stanno alzando molto da parte di Fabio Romito. Francamente non me l'aspettavo perché in tutti questi anni mi ha sempre fatto grandi attestati di stima. Però ho capito bene che ovviamente uno che deve recuperare più del 38% rispetto al primo turno è un po', come dire, deve alzare i toni dello scontro. Ed è lo stesso De Caro a credere fortemente nel lavoro di Vito Leccese. Non si può guardare più plasticamente. Il centro-dinistra è ritornato unito, come avevamo detto già prima delle elezioni. Adesso, uniti, cercheremo di vincere queste elezioni, di continuare questo percorso virtuoso che questa città fa ormai da vent'anni. Che Bari sta lasciando, De Caro? È una Bari più orgogliosa di se stessa, questa è la città più importante di questi anni. Siamo più orgogliosi di essere Bari, è una città che tende la mano a chi è più in difficoltà. Operazione rimonta invece nel centro-destra. Fabio Romito fa tappa al mercato di Via Nicolai. Sporcizia, bivacco e degrado. Il candidato a sindaco per il centro-destra barese riparte da qui, dalle condizioni nelle quali versano le periferie e alcune aree mercatali del capoluogo pugliese. Ci troviamo nel quartiere Libertà, mercato di Via Nicolai. Per far comprendere alla città di Bari quanto è importante andare a votare per il ballottaggio e votare per il cambiamento dopo vent'anni di sistema. Intanto continua il duello a distanza tra i due contendenti. Mi spiagge che Vito Leccesa non voglia confrontarsi, ha rifiutato il confronto TV del 20 giugno. Era un'occasione per spiegare ai baresi le nostre idee diverse di città. Chi fugge dal confronto sbaglia sempre. Io invece lo cerco quotidianamente per strada, nei mercati, sulle spiagge cittadine. Romito si difende anche dagli attacchi di La Forgia. Alla provocazione di La Forgia sulla mancanza del simbolo leghista che cosa riplichiamo? Diciamo che proprio dalla Forgia lezioni di coerenza non le posso accettare perché quando per due mesi hai parlato di discontinuità, hai annullato le primarie per il rischio di inquinamento e poi ti apparenti neanche 20 minuti dopo la chiusura delle urne con gli stessi che hai attaccato per due mesi, solo per qualche poltrona, direi che ha mancato di rispetto ai suoi elettori. Invece io mi rivolgo anche ai tanti cittadini baresi che hanno votato per il cambiamento, non soltanto per il centrodestra ma anche per Michele La Forgia. Quei cittadini non possono consentire che il proprio voto sia oggetto di mercimonio per qualche poltrona. Chi ha votato per il cambiamento al primo turno deve farlo anche al secondo. Apriamo adesso la pagina dedicata alla cronaca. Partiamo da Taranto, sparatoria nei pressi di una stazione di servizio in zona Tramontone. Ci sono sviluppi, ce li dice il nostro redettore Gianni Sebastio. Potrebbe esserci una svolta nelle indagini della squadra mobile di Taranto relative alla sparatoria avvenuta al rione Tramontone nel tardo pomeriggio di venerdì. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni perché è ritenuto presunto responsabile del reatto di detenzione illegale di arma clandestina. Gli sviluppi nelle ore successive alla sparatoria avvenuta in via Mediterraneo nei pressi di una stazione di servizio dove sono stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco di vario calibro. I poliziotti hanno effettuato controlli e perquisizioni nei confronti di persone residenti nella zona. Nell'abitazione del 35enne, già noto alle forze dell'ordine attualmente agli arresti domiciliari, gli agenti sono riusciti a recuperare una pistola beretta completa di caricatore con 14 proiettili. L'arma era stata nascosta all'interno di un divano. L'uomo nella notte è stato sottoposto all'esame dello stub per verificare se è coinvolto nella sparatoria in via Mediterraneo. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dalle quali si potrebbe giungere all'identificazione dei presunti responsabili. Stando a quanto si è preso, sarebbe nato un conflitto a fuoco tra due persone. Una di queste si trovava in sella ad uno scooter. Ci sarebbe stata una pioggia di fuoco in una zona sempre molto trafficata, nei pressi c'è anche un bar sempre affollato. Non ci sono stati fortunatamente feriti. Le indagini coordinate dal Pubblico Ministero Colella sono orientate verso un probabile regolamento di conti. Andiamo adesso nel Salento perché sono molto gravi le condizioni della donna sessantenne originaria di Copertino rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì. per destra preoccupazione. Inoltre il quadro clinico del marito, Francesco Schiavano. Sono tre le auto coinvolte nell'incidente avvenuto nella serata di venerdì poco dopo le 22.30 sulla strada che collega Cutrofiano con Corigliano d'Otranto. Qui all'intersezione dell'arteria extraurbana con via San Nicola da Tolentino si sono scontrate frontalmente una Smart e un Audi A3 mentre viaggiavano in corsie opposte. Subito dopo l'impatto l'Audi si è fermata a qualche metro in avanti mentre la Smart ha terminato la sua corsa impattando contro il guardrail adiacente alla carreggiata. Un terzo veicolo, inoltre una Fiat Punto è rimasta coinvolta nel sinistro risultando danneggiata alla parte anteriore. Quattro i feriti, un trentenne che era la guida dell'Audi il conducente della Fiat Punto e due coniugi sessantenni di Cutrofiano che viaggiavano a bordo della Smart. Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute marito e moglie in seguito al sinistro sarebbero sbalzati fuori dal veicolo l'uomo sarebbe caduto rovinosamente contro l'asfalto mentre la moglie contro il parabrezza della Fiat Punto. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118 a causa delle gravi ferite riportate per la sessantenne è stato necessario il trasferimento in codice rosso presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono molto gravi anche per il marito trasportato inizialmente d'urgenza presso il nosocomio Veris degli Ponti di Scorrano è stato poi disposto il trasferimento presso il presidio sanitario del capoluogo Salentino dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il sessantenne, il cui quadro clinico è molto grave in pericolo di vita resta tuttora sotto osservazione da parte dei sanitari ed è ricoverato in prognosi riservata a causa dei vari traumi riportati in seguito all'impatto e le gravi ferite riscontrate agli arti inferiori. Sul posto, oltre al personale sanitario sono intervenuti anche i carabinieri del comando stazione di Cutrofiano e i colleghi della sezione radiomobile di Gallipoli per i rilievi. La polizia locale di Cutrofiano che ha gestito la viabilità i vigili del fuoco, del distaccamento di maglie i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. A Foggia, strisce blu in strade dissestate e piene di buche protestano i cittadini che si rivolgono all'amministrazione comunale ai nostri microfoni. Via Nicola Arpaia a Foggia in questa come in altre strade della città particolarmente gravate da buche e dissesti vari colpisce all'occhio il colore blu sgargiante del recente rifacimento della segnaletica orizzontale per la delimitazione delle strisce dei parcheggi a pagamento. I cittadini si chiedono se l'amministrazione comunale ritenga questo intervento più importante ed urgente di altri relativi invece alla manutenzione delle strade stesse. A fornire una risposta l'assessore a lavori pubblici del comune di Foggia Giuseppe Galasso. Rispondiamo che questo è un obbligo che è presente all'interno del contratto sottoscritto con la società GPS. La GPS che ha partecipato ad un bando nell'anno scorso che era un bando che permetteva la gestione delle aree di sosta a pagamento all'onere con una cadenza annuale di effettuale il ripassaggio delle strisce blu per poterle rendere ovviamente visive e poter effettuare il sistema di tariffazione. Ove questo non fosse possibile realizzarlo ne scaturisce la possibilità e il titolo da parte della GPS di poter pretendere dal comune il mancato introito di questa situazione. Per questo motivo loro vanno a tracciare comunque con la vernice blu ma resta inteso che l'obbligo di chiudere le buche o eventualmente rifare intere zone di pavimentazione spetta all'amministrazione comunale che in parte sta mettendo in campo un'azione fortissima nei confronti di tutti gli enti dei gestori di sottoservizi per ripristinare le zone che sono state interessate da scavi. Molte di queste buche afferiscono a zone di questo tipo. Parallelamente stiamo attuando un programma di riqualificazione delle strade. La rete cittadina è di ben 400 km che punterà a riqualificare le strade a partire dalle zone diciamo maggiormente ammalorate. E il servizio raccuda della nostra Antonella Davola. Strisce blu protagoniste anche a Biceglie da un lato il parere dei cittadini dall'altro la replica del sindaco Angarano intervistato dalla nostra Maria Fiorella. Tornano attive le strisce blu a Biceglie e il servizio delle aree di sosta a pagamento è stato ripristinato dopo un'interruzione durata oltre sette mesi. La gestione del servizio è stata affidata alla gestoparca SRL dal comune che tra 12 mesi sarà pronta per acquisirla in house. Le tariffe sono rimaste invariate sia per la sosta singola sia per le diverse tipologie di abbonamenti sia nelle zone del centro urbano sia sulla litoranea di Levante e di Ponente. Siamo andati a chiedere cosa ne pensano i bicegliesi. Se non mettono i grattini parcheggiano dalla mattina la tolgono la sera mettendo i grattini si potrebbe trovare il parcheggio. Con questo grosso progresso che lo vogliono loro aumentare i traffici e i costi mi sapete dire qual è il bene e il male? Chi non è aggiornato può succedere che non lo mette e dovete tutelare anche quelle persone là. Sa che oggi si mette il grattino? Il grattino? Ma io non vivo a Biceglie. Noi però siamo certi che i vigili urbani sapranno fare riaffezionare gli automobilisti al pagamento della sosta. Nel frattempo il sindaco Angelo Antonio Angarano ha spiegato che Biceglie è pronta anche per chi non vorrà sostenere i costi delle auto in città. Noi abbiamo affiancato alle Sisce Blu le piste ciclabili la litoranea riqualificata abbiamo inserito la videosorveglianza quindi un sistema sanzionatorio importante sono tutti strumenti che contribuiscono a governare la viabilità di una città e fra non molto è pronto anche il piano urbano di mobilità sostenibile che andrà a sintetizzare tutti questi strumenti all'interno ormai di una conoscenza quasi scientifica della mobilità della nostra città inserita all'interno di un provvedimento che ci consentirà ovviamente di programmare ancora meglio questi strumenti a Taranto parte il progetto Bike Hospitality Leo Spalluto più biciclette in città verso la mobilità sostenibile è l'obiettivo del progetto Bike Hospitality realizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana è indirizzato ai comuni che promuovono l'uso della bicicletta con il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nel settore del turismo in bici Taranto è il primo comune del sud ad aver siglato il protocollo di intesa firmato dal vice sindaco Azzaro e dalla vice presidente nazionale di FederCiclismo Carmine Acquasanta alla presenza della vice presidente di Ancipuglia Onofrio Di Cillo la promozione di tutto ciò che è l'uso della bicicletta per attività non agonistiche e in primis chiaramente il turismo e la mobilità sostenibile a livello urbano quindi Federazione Ciclistica Italiana si pone come partner per le amministrazioni pubbliche per le strutture oggettive a partire da Taranto è un grande onore consideriamo che Taranto l'anno prossimo è la città europea dello sport nel 2026 è il luogo dove se loggiano i rigiocchi del Mediterraneo circa 187 chilometri di piste ciclabili 14 delle quali già realizzate 77 velostazioni bike box nonché anche rastrelliere per un totale di 22 milioni presentata anche la nuova maglia con la quale le rappresentative della Puglia gareggeranno in tutte le competizioni ciclistiche nazionali per incentivare il cittadino di tutti i giorni ad inforcare la bicicletta bisogna proporre un prodotto ben organizzato e questo è quello che stiamo facendo con questo progetto Bike Hospitality da un lato la mancanza di dialogo tra giunta e consiglieri dall'altro una necessità di ricambio per la tenuta della maggioranza ecco perché sarebbe stato chiesto l'azzeramento del sindaco Marchionna a Brindisi Cristina Cavallo i gruppi consigliari che compongono la maggioranza al comune di Brindisi hanno chiesto al sindaco Giuseppe Marchionna di revocare le deleghe a tutti gli assessori e di avviare una verifica sulla composizione dell'esecutivo Marchionna risponde devo incontrare prima tutti i partiti incontri che dovrebbero avvenire nei primi giorni della prossima settimana un fulmine a Cessereno forse il tutto come da richiesta dovrebbe accadere entro e non oltre il consiglio comunale che dovrà decidere anche sul salvataggio della Brindisi Multiservizi il motivo ufficiale è da ricercare per i capigruppo nella mancanza di dialogo che esisterebbe ormai da mesi tra consiglieri e componenti della giunta ed intanto Ercole Saponaro capogruppo della Lega lancia questo messaggio è una richiesta degli eletti quindi nessuno può sottovalutare o rischiare di non prendere in considerazione questa richiesta il sindaco secondo noi cosa deve fare anche i partiti non possono sottovalutare una richiesta di chi siede in consiglio comunale e chi si assume delle responsabilità altrimenti si avverebbero scenari diversi una crisi di ben altre dimensioni abbiamo chiesto al sindaco un ritiro delle deleghe una verifica della giunta dopo un anno ci vuole uno slancio diverso che riteniamo di dover dare nei corridoi di palazzo di città intanto circolano già i nomi da sostituire e quelli che potrebbero prendere il loro posto per Forza Italia ad esempio potrebbe uscire Gianluca IV assessore ai lavori pubblici ed Ernestina Sicilia assessore alla pubblica istruzione al loro posto le nuenti potrebbero rispondere al nome di Cosimo Elmo e Caterina Cozzolino per Fratelli d'Italia invece rischiare sarebbe il vice sindaco Massimiliano Oggiano la cui delega potrebbe andare a Cesare Mevoli mentre ad Ercole Saponaro potrebbe andare la delega all'ambiente adesso pubblicità torniamo tra pochissimo ben ritrovati il Tg riparte da Bari perché una delle questioni più importanti è quella legata alla raccolta differenziata dal metodo porta a porta differenze che emergono visibili tra un quartiere dove si applica e dove invece no riflessioni che non sono mancate anche nel corso di questa campagna elettorale la raccolta differenziata in particolar modo quella porta a porta per Bari appare una necessità sempre più impellente gli ultimi dati forniti da Legambiente resi noti a gennaio scorso parlano di un tasso che sfiora il 40% ancora poco ma è in crescita costante perché sempre più quartieri stanno entrando in questo nuovo meccanismo un servizio che in realtà già in alcuni quartieri della città Carbonara Ceglie Loseto Santa Rita San Paolo Stanic Villaggio del Lavoratore Santo Spirito Palese Catino San Pio San Cataldo San Girolamo e Fesca ma che presto toccherà le altre zone della città non ancora interessate le più immediate Torriammare San Giorgio Sant'Anna ed un pezzo di Apigia a breve partiranno poi le gare per la fornitura di isole ecologiche interrate per il quartiere Miurà e la zona Umbertina di superficie per Libertà Madonnella San Pasquale Picone e Carrassi nella parte bassa per completare il processo insomma accelerare quest'ultimo di cui si è parlato da più parti anche in questa campagna elettorale risulta fondamentale d'altronde anche la differenza nella redistribuzione di rifiuti e nell'aspetto urbano si nota nelle aree dove ancora ci sono cassonetti in strada a volte la tendenza è quella di creare sgradevoli accumuli come si nota dalle immagini in quelle toccate dalle novità la situazione è in media notevolmente migliorata strade maggiormente sgombre spazi più puliti ed anche nuovi parcheggi per auto laddove possibile un cambiamento che dovrà portare reali benefici alla quotidianità della comunità barese e adesso ci spostiamo nel Tarantino andiamo esattamente a Marina di Pulsano è entrato in vigore lo scorso 10 giugno il senso unico di marcia in viale dei micenei commercianti residenti però hanno pareri discordanti sul tema Laura Milano senso unico di marcia a Pulsano in reale dei micenei questa la novità introdotta dall'amministrazione comunale per l'estate 2024 entrata in vigore il 10 giugno è valida sino al 31 agosto novità importante quindi per un tratto della litoranea particolarmente trafficato nella stagione estiva ecco cosa ne pensano imprenditori e residenti guardi da quando è entrato in vigore dal lunedì 10 abbiamo notato una minore affluenza di gente e questo potrà causare a parer mio problemi durante la stagione per noi per tutte le attività che appunto lavorano eri commercianti gente che veniva da Torre Ovo che si doveva fare il gelato al coibo o allo chalet purtroppo sono costretti ad arrivare a Lido Silvano e fare il giro arrivare a Pulsano e poi se ne vanno cioè noi commercianti perdiamo ma per me è una cosa buona guarda perché qui si crea un incorgo non indifferente qualcuno è contrario qualcuno favorevole e quando chiediamo se il senso unico di marcia possa realmente nuocere alle attività commerciali la risposta è ma non subirà nessuno niente guarda perché chi è abituato a frequentare questi locali continuerà ancora è stato già fatto tanti anni fa e non abbiamo avuto problemi capitolo turismo a Otranto arriva la Otranto Card vediamo di cosa si tratta Otranto Card nasce in realtà da un po' di anni è nata un po' di anni fa ma noi oggi abbiamo voluto digitalizzarla ossia sino ad oggi la Otranto Card veniva emessa in forma cartacea ed il ritiro avveniva personalmente dagli operatori turistici invece obiettivo di questa amministrazione è stato quello di digitalizzare l'emissione e renderla più veloce anche per il 2024 torna in forma digitale la Otranto Card uno strumento messo a disposizione dei turisti dal comune la quale non solo agevola l'adempimento di alcuni obblighi burocratici e formalità per i visitatori ma garantisce a questi ultimi di usufruire anche disconti e servizi su tutto il territorio idruntino oltre a varie opportunità per visitare la città i suoi monumenti e conoscere la sua affascinante storia è stata sin da subito molto apprezzata dai visitatori della nostra città soprattutto perché all'interno dei servizi che caratterizzano la Otranto Card vi sono degli sconti riguardanti i nostri monumenti e anche una visita guidata gratuita della nostra città Otranto Card permette inoltre anche attraverso il portale di essere aggiornati sui vari eventi che animano l'estate nella città idruntina che si conferma una delle mete più ambite dai turisti provenienti ormai da tutto il mondo abbiamo da pochissimo lanciato la nostra programmazione estiva Otranto Tra Alte Musica e Cultura un calendario ricco di appuntamenti che volge diciamo un'attenzione a tutte le fasce di età non trascurando la bellezza dei nostri monumenti del nostro mare e del nostro paesaggio AAA Nonni Vigili cercasi questa l'ultima operazione messa in atto dal comune di Foggia vediamo la cosa più bella è essere la mattina da mandare scuole il buongiorno dei bambini il sorriso questo ci fa far sì che andiamo a casa felici perché questo noi abbiamo questo il nostro compenso è questo non abbiamo altro AAA Nonno Vigili cercasi si affoggia un gazebo informativo per promuovere tra i cittadini il progetto dei nonni vigili del comune del capologo Dauno a organizzare l'iniziativa il corpo della polizia locale che intende rilanciare l'attività di volontariato per l'anno scolastico 2024-2025 l'attività come ogni anno riguarda un servizio di presidio e sorveglianza durante l'entrata e l'uscita dei bambini dalle scuole primarie della città nel gazebo accanto ai rappresentanti della polizia locale alcuni dei volontari che hanno prestato servizio nell'anno scolastico appena terminato i nonni sono una preziosa risorsa anche per il comune di Foggia noi siamo a 12 vigili ma dobbiamo comunque incrementarli stanno arrivando anche adesioni in tal senso siamo pronti per il nuovo bando 2024 anno scolastico 2024-2025 quindi che dire una presenza preziosa per i nostri bambini ecco da donna si sente di fare un appello anche alle donne certo quest'anno abbiamo avuto con noi 12 nonni vigili e sto aspettando con ansia qualche nonna perché il ruolo dell'affettività delle donne poi viene essere completata con quella dei nostri nonni MAP Festival a Taranto grande chiusura anche grazie alla Lectio Magistralis dell'architetto Fuskas il problema di questa città è per salvare la vita delle persone cioè non si può pensare a una città dove la gente si ha male la città deve essere dove sta bene la città nasce per far stare insieme molte persone farle vivere bene quando vivono male bisogna eliminare la causa del malessere c'è un grido di dolore ma nello stesso tempo un'emozione d'affetto verso Taranto nelle parole di Massimiliano Fuskas architetto di fama internazionale e ospite d'onore dell'ultima giornata del MAP Festival Fuskas uno dei massimi progettisti al mondo ha tenuto un Alexio Magistralis nella concattedrale Gran Madre di Dio e si è soffermato con particolare attenzione sulla qualità della vita delle persone che deve essere prioritaria ha sottolineato verso la scelta di qualsiasi forma architettonica delle città un altro personaggio d'eccezione dopo Alessandro Baricco e Paolo Fresu per la rassegna di musica architettura e parallelismi organizzata dall'orchestra della Magna Grecia un bilancio ricco di soddisfazione per i direttori artistici Gloria Campaner e Piero Romano è un'occasione particolarmente virtuosa e gradita per ricordarci che il MAP Festival è nato proprio per commemorare i 50 anni della concattedrale una soddisfazione sia dal punto di vista diciamo organizzativo che da un punto di vista artistico che onestamente ci inorgoglisce l'ultimo atto è stato rappresentato dal concerto grandissimo Bernstein che ha visto protagonista proprio l'orchestra diretta da Piero Romano nella terrazza della Camera di Commercio di Taranto presentata la sedicesima edizione del Festival Maratea e si svolgerà dal 23 al 27 luglio Francesco Cutro è stata presentata a bordo di una freccia rossa in viaggio da Roma a Maratea la sedicesima edizione di Marateale Premio Internazionale Basilicata che si terrà nella perla del terreno dal 23 al 27 luglio tra le prime celebrità annunciate Vanessa Incontrada Chiara Francini Elena Sofia Ricci Rolbova Giorgio Panariello Maria Grazia Cucinotta Giussi Ferreri solo per citarne alcune a bordo del frecciarosso insieme a Nicola Timpone direttore artistico Marateale Luigi Corradi amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia anche le attrici Martina Stella e Letizia Toni gli ospiti italiani sono tantissimi e ancora nei prossimi giorni ne annungeremo degli altri e spero che nei prossimi giorni avremo annunceremo anche degli ospiti internazionali ci stiamo lavorando stiamo aspettando delle risposte speriamo che arrivano è il quarto anno che Trenitalia e il Marateale lavorano insieme e insieme come? grazie ai nostri treni che con l'offerta estiva fermano a Maratea e non solo nel senso che a Trenitalia il gruppo Ferrovie dello Stato piace molto supportare il cinema in generale la cultura e un evento di cinema come quello di Maratea non possiamo farcelo scappare stiamo andando a Maratea per me è la prima volta non vedo l'ora era da tanti anni che insomma volevo partecipare a questo festival poi tanti lavori tanti incastri alla fine ci sono riuscita per me è un onore è bellissimo poter partecipare a questo festival è un'opportunità molto importante per me e sono davvero felice musica grande protagonista conversano con il conversano music festival c'è stata l'esibizione dei gemelli diversi ma ci saranno anche artisti emergenti non mancano inoltre street food e stand di birra artigianale un mercatino del vinile e dell'artigianato Antonella Fazio si dice che di noi tutto è un po' nostalgia una le sere è andata Mary Mary come è? si è aperto con il concerto dei gemelli diversi il conversano music festival che per tutto il fine settimana coniugherà nuove promesse della musica e interpreti già alla ribalta nazionale sono 14 gli artisti emergenti pronti a calcare il grande palco del contest valutati da una giuria di esperti del settore oltre 40.000 spettatori hanno già assistito alle passate edizioni del festival organizzato da Sensazioni del Sud e quest'anno le aspettative sono confermate anche grazie ad un format che prevede accanto ad alcune conferme proposte di arte e gastronomia anche alcune novità come il conversano Brighter Fest nel programma anche street food e stand di birra artigianale oltre a un mercatino del vinile e dell'artigianato il conversano continua ad essere un punto di riferimento per questo tipo di manifestazione musicale risponde sempre benissimo ricordiamo l'anno scorso nonostante la pioggia con Albertino ma anche la prima edizione con Ermal Metal e con i Sud Sound System che hanno riempito sempre la nostra piazza a Canosa una mostra in area archeologica vediamo un po' proseguono le indagini archeologiche a Canosa di Puglia nelle quali sono impegnate squadre di esperti con l'intento di riportare alla luce testimonianze del passato stratificate in diverse epoche storiche ben due le campagne di scavo distinte ma contestuali che vedono coinvolti nel complesso oltre 40 tra studenti e docenti dell'Università di Bari e di Foggia su concessione di scavo rilasciata dal Ministero della Cultura alla Fondazione Archeologica Canosina scavi che sono stati già fatti negli anni passati ma ci sono tutte delle aree che vanno ancora riscoperte e grazie alla Fondazione Archeologica Canosina che in collaborazione con l'Università avremo la possibilità di indagare sull'importanza storica di Canosa in due periodi storici estremamente interessanti a Pietra Caduta e steso spazio funerario situato nella zona meridionale della città si scava dopo sette anni dalle ultime indagini archeologiche l'attività di esplorazione potrebbe condurre all'ampliamento dell'area funeraria con la scoperta di nuove tombe una zona che è stata quasi potremmo dire martoriata però abbiamo una serie di elementi per cui veramente possiamo discutere su questa nuova forma di sevoltura in una zona dove ci sono i poggi monumentali nelle vicinanze sulla collina di San Pietro dopo vent'anni dalle precedenti indagini un altro team di ricerca è impegnato nelle attività di scavo sul quartiere produttivo artigianale sono presenti le tracce di una serie di fornaci ovviamente lo scavo dovrà verificare quindi l'idea è quella di aprire uno spiraglio su un'altra attività importante di canosa romana in particolare cioè l'attività artigianale collegata con la produzione ceramica il telegiornale termina qui grazie per averci seguito e buon proseguimento con la nostra programmazione rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo a